Ups a tutti, miei cari Upsini e Upsine. Oggi sono qui solo per voi, per fare un video tra virgolette interattivo, nel senso, nel video di oggi vorrei che anche tu che stai guardando questo video facessi quello che sto facendo io. E diciamo che ti insegnerò pian piano a farlo. Quindi, senza dire altro, indosso un paio di cuffie o auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Io comincio con il video. Nel video di oggi faremo principalmente tre trigger che sono il tapping, lens sounds e movements e poi il tone clicking. Quindi, adesso, sei insieme a me. Dobbiamo fare del tapping insieme, ok? Prendi il primo oggetto che vedi, quello alla tua destra, quello alla tua sinistra, voi li vedete al contrario, però vabbè. Qualsiasi oggetto. Anche la cartigenica, per esempio. Io, guarda, ho preparato degli oggetti strani, appunto per farti capire che su qualunque oggetto puoi fare del tapping. Ho preso, per esempio, il sapone che avevo in bagno. Quindi, anche tu, prendi un oggetto e poi con i polpastrelli o con le unghie picchiettaci sopra. Quindi, anche tu, insieme a me, adesso prendi un oggetto e fallo. Quindi, anche tu, prendi un oggetto e fallo. Quindi, anche tu, prendi unямo. Quindi, anche tu, prendi un pentas outta questa tua sinistra. Scrivimi nei commenti che oggetto hai preso, preparane poi altri due perché ne prenderemo insieme altri due. Durante il tapping puoi decidere se farlo lento, oppure un po' più veloce, come piace più a te. Perfetto dai, posiamolo adesso. Ok, abbiamo finito di usare questo oggetto, adesso prendi un altro a caso, non guardare cos'è. Una busta di noci. Va bene qualsiasi cosa. E ricominci a fare del tapping. E' anche vero che ogni Ogni oggetto non ha un solo trigger che può fare. Quindi, se vuoi, puoi provare a fare qualche altro trigger con l'oggetto che hai preso. Ogni oggetto. Per esempio, io questo pacchetto di noci potrei... premerlo un po' per far sentire il suono della scatola. Oppure potrei aprirlo e mangiarmi qualche noce, per esempio, per fare degli heating sounds. Ma per oggi facciamo del tapping. Prima di noci potrei. E' un po' di noci potrei. E' un po' di noci potrei. Lo stai facendo insieme a me? Adesso possiamo pure questo nostro secondo trigger e ne prendiamo un terzo. Io adesso ho scelto una crema a mani e anche su questo qua facciamo insieme del tapping. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Su alcuni oggetti viene meglio il tapping con i polpastrelli mentre su altri con le unghie. Per esempio nel sapone e in questa crema è meglio il tapping con le unghie. Sulla busta di noci che ho preso prima è meglio quello con i polpastrelli. Quindi adesso ha in mano il terzo oggetto vero? Facciamo insieme un po' di tapping. Facciamo insieme. Facciamo insieme. Facciamo insieme. Facciamo insieme. Facciamo insieme. Facciamo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso spalmiamocela sulle mani. Grazie a tutti. Chiudiamola. L'appoggio qua. Adesso che abbiamo lubrificato le mani, non so come dire, vabbè. Faremo dei hands sounds. Quindi, per esempio così. Dai, fallo insieme a me. Devi strofinare l'indice e il medio tra di loro. Bravissimo o bravissima. Adesso facciamo così. Adesso strofina tutte e quattro le dita. E' un po' difficile. Non importa se non riesci alla prima volta. Adesso aggiungiamo un altro passaggio. Mentre facciamo questi suoni con le mani, con la bocca, dobbiamo fare questo suono. Ok. Si chiama tongue clicking. Ed è appunto, diciamo, la lingua che sbatte sul palato, ma vicino vicino ai denti superiori. Quindi... Poi voi anche mettete la bocca, così come se dovesse dare un bacio, non so. E fate questo suono. Ok. Adesso facciamo un po' di hands sounds con anche del tongue clicking. Ok. Perfetto. 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 Adesso sai cosa facciamo? Facciamo del tapping però sulle mani. Così. facciamo qua se prendi il pollice e l'anulare e fai così come se dovessi scrocchiarli adesso fai passare tutte e quattro le dita perfetto dai secondo me è giunto il momento della buonanotte quindi cuckoo adesso puoi stenderti nel letto e smettere di fare dei trigger chiudi gli occhi va bene? ora tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community e se siete dei maschietti diventare i miei OPSini mentre se siete delle femminucce diventare le mie OPSine poi lasciate un bel mi piace qua sotto se questo video vi è piaciuto e commentate tutto tutto quello che vi passa per la testa va bene? il video di oggi purtroppo finisce qua ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video che vogliate va bene? quindi buonanotte ragazzi buonanotte un bacio e noi ci vediamo al prossimo video